Inizia la battaglia Su 4 mini l'unico umano è Wang Inizia la partita Aumenta lo schermo perché non vedo niente Max prova Parte con una pressa doppia Che assicura 3 colpi Abbiamo Max che pressa The Phantom Prova con l'hop kick E va a infantare la jungle The Phantom tagga Ma Non riesce a Spacca il muro Sbaglia la jungle Max fa la sparizione Vediamo Max che pressa Ma quello è in ritardo Quindi devi guardare Ma loro vedono questo Ah ok Vediamo The Phantom che pressa Però ci prova E splatta e vince il round Axe con Ogre tenta un basso A lunga distanza Devi guardare questo Eh Devi guardare questo perché Pancatovoce va qui Quindi se no vi sembra la chi per darmi Sì sì Devi guardare questo Vabbè ma tanto commento questo Eh appunto sì Neve The Phantom con Wang Tenta Basso No 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 Chi? Sopra sopra Giù? Lì Fa la finta The Phantom E tagga Max Vince Vince il round The Phantom Sparizione di Ogre The Phantom punisce da 12 Presa doppia per Max Che sbaglia la juggle Tagga Max Passo per Roger Va vuoto la starter Sparata a muro ma sbaglia la juggle Vince il primo match Max Wicksilver Vediamo The Phantom Che cala Raven E scommetto Zafina E Zafina infatti Come dicevo The Phantom cambia coppia Sperando di poter cambiare Il risultato delle partite Le pinte di The Phantom Ecco Raven Tenta un FF3 Punisce di spalle Raven Tenta una doppia avanzata con Ogre Sì la conosciamo Bassi Basso Sbaglia Un po' un po' il torneo E' andata avanti Entra Roger Junior Max Wicksilver Max Wicksilver il pressa con bassi in medi Zafina per The Phantom E entra Raven Va vuoto Max Wicksilver Sbaglia la juggle The Phantom Vediamo che Max Wicksilver Non sa bene come cavarsela con Zafina Con Zafina Un personaggio abbastanza per lui Sconosciuto Tira una stringa di tre colpi The Phantom non para Tenta la juggle The Phantom tira un rialzo da stance Fallisce la combo a muro Va vuoto Max Levanto un punisce con danno Non entra la combo a muro per Max The Phantom si Schiva la sparizione di Ogre Punisce a dovere Punizione giusta per The Phantom che va a vuoto Tenta con un bassetto A muro Max Vediamo che Max è in difficoltà Di fronte a Zafina Come detto prima Il personaggio da lui Sconosciuto Vediamo che Non conoscendo bene le stringhe Vediamo che The Phantom Punisce il basso di Ogre Scoperto di meno 20 Presa doppia per Max Che sbaglia la juggle Sparizione di Raven Bassetto finale Stringa di spalle per The Phantom Max non sa proprio Che pesce prendere con Zafina Schiva il colpo alto E punisce The Phantom E chiude il match Che gode Vediamo Zafina The Phantom che si Come si dice The Phantom è impazzito È impazzito Comincia il terzo round Stiamo uno a uno Stiamo perdendo la cazzata Non punisce Max preferisce Ottima mossa per Max Un danno ingente Non para e alza Impare Impare Vediamo che The Phantom Tende a cercare la juggle Più che fare un gioco E chiude il match Max Exil Non punisce The Phantom Scopertura a vuoto Scopertura a vuoto Scopertura a vuoto The Phantom punisce con FF3 Scopertura a vuoto Scopertura a vuoto Di neve E chiude il match Basta scopertura Scopertura a vuoto E non può Vediamo che The Phantom ci pava con un QC f4 E con un FF3 Finisce meno 13 Lefante non ci prova a ponere a vuoto Max è decisamente in difficoltà di frontezza fina Combo per Max, chiude il match Nonostante la sua ignoranza verso Zafina, riesce a chiudere comunque sia 3-0 il match E stiamo 2-1 per Max 2-1 per Max Tenta un counter Vediamo cosa succederà con Wang Max è troppo a fretta e prende il terzo colpo 8.000 di danno Fonda la staccionata ma sbaglia la combo Sparizione per The Phantom Fonda la staccionata ma sbagliare trappola vediamo se questo sarà l'ultimo round si provava The Phantom vediamo se Wang cambierà le sorti del match prende un counter vediamo il combo The Phantom tenta il come back vediamo se ci sarà un come back chiude il match Max Quicksilver ed è fatto un sferro a un pugno potentissimo a Max amichevolmente